I sindacati Cigel, Cisle, Will e la Confindustria hanno manifestato insieme. Oggi davanti alla sede dell'Assemblea regionale siciliana hanno chiesto e ottenuto un incontro col presidente dell'Ars, Francesco Cascio. Chiedono modifiche e attuazione della legge di riforma degli attoambiente, ovvero gli ambiti territoriali ottimali. La politica di gestione dei rifiuti in Sicilia, dicono sindacalisti e industriali, continua a non funzionare e si rischia una nuova emergenza rifiuti in tutta l'isola. Il passaggio dato a SSR doveva essere già fatto da un bel po' di tempo. Questa ha incangredito la situazione, ha continuato a determinare disservizi, ha scontentato tutti. Le imprese perché non possono esigere i loro crediti e i lavoratori che sono in una condizione sospesa, sia dal punto di vista delle loro retribuzioni, che probabilmente se le imprese non riescono ad avere le risorse non arriveranno, ma anche dal punto di vista della collocazione. C'è un problema politico che sta a monte. E' questo miliardo di euro di debito che preoccupa, perché quando a dicembre la legge prevede che si devono sciogliere gli ato e passare a nuovi soggetti, ancora non c'è neanche discussione, squaglieranno questi debiti, nel senso che rischiano che le imprese non avranno più questi crediti che vantano e i lavoratori non si capiscono come passano al nuovo sistema. La legge di modifica degli ato è in vigore in Sicilia da ben due anni. Mancano però l'attuazione della riforma e le certezze economiche per i servizi resi dalle aziende e per la retribuzione dei lavoratori. La legge regionale, lo ricordiamo, prevede la liquidazione dei 27 ato e la nascita delle SRR, società di regolamentazione del servizio di raccolta, e prevede 10 consorsi tra comuni e province sotto il controllo della regione per abbattere i costi dei consigli di amministrazione. I vecchi ato hanno accumulato debiti per più di 900 milioni di euro. Sindacati industriali ribadiscono oggi che la riforma è rimasta largamente inapplicata e così non garantisce la solidità economica delle imprese, mette in pericolo il pagamento degli stipendi e il mantenimento dei livelli occupazionali. Anche perché i crediti vantati dalle aziende nei confronti della regione, come detto, sono di quasi un miliardo di euro e senza soldi si chiude. Il rischio è che il sistema è già imploso e che se non si pone mano la Sicilia si candida a un'emergenza to cur perché da troppo tempo il comparto è stato abbandonato. Oggi insieme ai lavoratori veniamo a recriminare un diritto, vedere riconosciuto alle aziende i crediti che vantano. Punto.